Il titolo di Campari è in calo dell'1,74%. Ritorniamo sul mercato, andiamo a vedere il Forex, l'euro dollaro 1,1089 cerca di recuperare lo scivolone di ieri più 0,14%, il dollar index a 97,81 in calo dello 0,10%. Un oro stabile su 1.487 dollari l'oncia, future in rialzo a più 0,29%. Mentre andiamo ad aggiornare la situazione delle criptovalute, ci colleghiamo con il nostro prossimo ospite, Cristian Ciuffa di Trend Online, ben trovato alle fonti. Salve, buongiorno Annabella, buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno a te, allora Cristian andiamo subito ad aggiornare la situazione delle criptovalute, guardando in questo momento inizialmente ci focalizziamo sulle major, sulle principali, quindi Bitcoin, Ethereum e Ripple, sulla mia piattaforma i Bitcoin e Ethereum sono in territorio positivo, il Bitcoin guadagna quest'oggi lo 0,52%, siamo su livelli a 9.388 dollari, ha toccato un massimo a 9.475, minimo a 9.300, Scilla in questo trading range, qual è la situazione in questo momento? E poi andiamo a ampliare anche il discorso sugli altri fatti che riguardano le cripto. Sì, praticamente diciamo che il Bitcoin soffre e ha sofferto un pochettino più che altro una piccola manipolazione che c'è stata, secondo il mio parere, riguardo in questo, nella zona proprio delle due fine, diciamo delle due mensilità di settembre e ottobre, diciamo che sono state molto sfavorevoli per il Bitcoin, perché comunque all'interno c'è una macroeconomia che ha voluto, diciamo e ha dovuto poi comunque fare questo tipo di canalizzazione e rottura di una trend line fondamentale, che era, anzi di un supporto fondamentale che era questo dei 9.100. Diciamo che ora il Bitcoin ha rotto di nuovo questo canale a rialzo e sta andando verso una soglia abbastanza importante che è quella dei 10.600, se continuasse, adesso sta lateralizzando secondo me per un motivo di più di condensazione, diciamo più che altro è una lateralizzazione che potrebbe portare il prezzo a rompere definitivamente questo, diciamo questa impasse, questa zona comunque di consolidamento per andare ai 10.600, che è il supporto quello intorno al 61%, quindi il ritorno nelle zone più calde, diciamo del 2019 alla fine se andiamo a vedere. Quindi più che altro mi aspetto un Bitcoin non con questi candeloni qui, ma diciamo principalmente da qui a un mese, un mese e mezzo, quindi prima comunque della fine del nostro anno, insomma per andare almeno sui massimi, quindi intorno ai 14.000, se tutto va bene, se comunque le varie vicissitudini sia dal punto di vista Cina che dal punto di vista anche Europa e America, diciamo riescono un po' a stare sulle loro, più che invece andare proprio a sfruttare occasioni come quello che stiamo vivendo adesso in Cina, per esempio con la nuova valuta, i remimbi, eccetera, eccetera. Quindi se riescono a stare un pochino calmi può darsi che riusciamo ad avere più di un aspetto positivo per il Bitcoin, che trascinerebbe poi tutte le altre, stiamo parlando di... Che cosa intendi con se riescono a stare un pochino calmi? Ricordiamo ai nostri telespettatori di che cosa stiamo parlando, stiamo parlando della Cina, di Xi Jinping starebbe lavorando per creare una propria Crypto One con l'obiettivo di ricondurre la tecnologia blockchain sotto il controllo dello Stato. Ecco, quindi Pechino ha accelerato il lancio di questa moneta virtuale sotto l'ala della banca centrale cinese, questa moneta, sì, della banca centrale della Cina che potrebbe verificarsi l'11 di novembre in occasione del Festival del Commercio Online lanciato da Alibaba, corretto Cristian? Sì, esatto, praticamente io nella macroeconomia vedo comunque, anzi vedevo prima una divergenza abbastanza forte perché comunque c'era un Bitcoin che andava in giù, quindi che andava al ribasso e una macroeconomia che invece inneggiava al rialzo il Bitcoin perché comunque andava a sfruttare diciamo joint venture, delle aziende che volevano il Bitcoin come moneta, ma anche le criptoadute in generale era un indice di investimento. Ora, diciamo io con quel calma io dicevo più che altro perché ogni volta che si ha una, diciamo, un'operazione, anche una piccola operazione di disturbo come c'è stato l'altra volta per esempio Trump quando comunque denigrava le cripto, poi c'è stato per esempio nella Francia che comunque il Presidente francese ha detto determinate cose per quanto riguarda Libra ma per quanto riguarda il mercato in generale, quindi diciamo se riescono a stare un pochino più calmi diciamo nel momento in cui si fanno delle dichiarazioni contro le cripto sicuramente l'investimento e quindi la fitucia degli investitori sarà molto più alta e questo è legato anche al fatto perché la Cina, per esempio, che è una filo diciamo bitcoiniana diciamo così, perché comunque aveva nelle criptovalute un occhio di riguardo proprio per ovviare secondo me a un impasse che era quello della guerra comunque diciamo commerciale quindi vedeva lo sbocco nel bitcoin e infatti quando c'era questa condizione il bitcoin era molto più in alto stiamo parlando dei 14 mila, dei 12 mila e 8 quindi questi massimi che abbiamo, che avevamo avuto all'inizio di agosto che è successo poi? È successo che la fiducia si è persa proprio qui quando nel 22 settembre BACT comunque è uscito, diciamo, anzi è entrato nella scena delle cripto e ha fatto un po' di speculazione, perché io dico manipolazione? perché se guardiamo infatti sia questa candela qui del 24 settembre è speculare a quella del 24 ottobre cioè le due discese più forti del bitcoin e quindi quando parlano, quando si instaurano delle convinzioni a livello non tecnico ma macroeconomico all'interno delle cripto vediamo che le cripto soffrono quindi ovviamente non si ha nel momento in cui c'è stata per esempio questa zona qui perché? Perché qui le cripto non avevano nessun interesse gli altri ad andare contro anzi aveva investimenti forti come JP Morgan, come tutti i grandi investitori e i founder comunque che sono nel mondo quindi nel momento in cui noi avevamo una certezza di fiducia vera e propria il prezzo è arrivato a 14 mila quando la certezza è venuta meno, proprio contrastata da vari stati cominciando proprio da Trump perché? Perché il suo obiettivo era il dollaro digitale quindi per esempio Coinbase è uscita adesso una notizia in cui vuole che questo dollaro digitale sia magari privato privatizzato, non centralizzato c'è la Cina che vuole d'altro canto una moneta sua perché vede magari nel bitcoin comunque uno sbocco meno magari che può dare meno importanza a ciò che vuole fare la Cina perché vuole mantenere ovviamente gli investimenti controllati ecco perché la banca centrale vuole controllare la moneta cinese e rimanere gli investimenti all'interno anche un modo per contrastare il dollaro americano esatto e contrastare il dollaro americano esattamente perché comunque noi abbiamo in questo momento una situazione di incertezza geopolitica che si riflette nel mercato finanziario infatti il dollaro in questo momento scende non solo perché comunque ci sono stati dei tagli ma anche a livello diciamo il connubio che ha in questo momento il mercato digitale con il mercato quello quindi di valutario normalmente diciamo conosciuto diciamo che ha fatto sì che il dollaro scendesse e che magari la fiducia degli investitori sul in questo caso sulle criptovalute diciamo scemasse un pochettino ok ok bene allora abbiamo ampiato un po' il discorso ritorniamo sull'analisi tecnica Cristian andiamo a vedere chi è salito e chi è sceso in questa settimana allora praticamente diciamo che la settimana è stata veramente veramente coinvolgente un po' dappertutto cominciando comunque dal bitcoin abbiamo visto che invece lateralizza che è stato un po' l'incipit dopo questo ovviamente ce l'aspettavamo perché diciamo dai massimi ai 10.400 quasi 10.500 è andato a ritracciare diciamo che questo ha portato un po' guardate per esempio Ethereum cosa che è un esempio che faccio moltissimo Ethereum che sta praticamente andando a completare un'azione del prezzo molto molto importante perché vedete sembra quasi è un pattern armonico come l'avevo io immaginato che confluirebbe con una zona di interesse molto forte perché siamo a livelli del 38% vedete il ventaglio di Fibonacci quindi che confluisce abbastanza con questo 78% di questa gamba che va appunto dai 225 ai 154 quindi diciamo che questa settimana è stata molto importante per Ethereum e che sta rotti questi massimi a 191 secondo me andrebbe direttamente dove c'è il nostro obiettivo diciamo settimanale che è quello dei 210 dollari dopodiché è venuto insieme con Ethereum si è andato un po' a vedere una crescita molto forte invece del Bitcoin Cash perché è arrivato addirittura intorno ai 303 dollari me l'aspettavo che arrivasse a 293 e va bene ma addirittura ha rotto ovviamente con le ultime notizie cioè con l'ultimo diciamo rialzo del Bitcoin che ha trascinato in maniera forte il Bitcoin Cash quello che invece mi ha un po' diciamo deluso è il Litecoin perché veramente non è cresciuto come volevo perché io me l'aspettavo un pochino più su sinceramente visto anche dei connubi con per esempio Litecoin con delle aziende comunque sta concludendo degli accordi con delle aziende ancora sta in fase e poi anche lo stesso per esempio che c'è stato un rialzo minore rispetto agli altri è stato per esempio la valuta Tether che comunque è una valuta che è centralizzata tra virgolette molto di più di qualsiasi altra cripto perché è venuta a rimanere anzi è calata di molto rispetto anche se i volumi sono altissimi perché si parla di 30 miliardi comunque diciamo all'attuale però è calata in maniera vertiginosa addirittura ha toccato un minimo intorno ai 0,99 quindi queste sono le cripto che più mi hanno un po' lasciato diciamo intravedere un saliscendi che è dovuto più che altro sia all'aspetto macroeconomico ma poi invece ai rialzi invece dovuto al Bitcoin che ha trascinato tutti quanti quindi ecco questa è un po' la visione è caduto il microfono è una visione abbastanza ecco per chi ci ascolta penso che sia esaustiva perché abbiamo toccato anche dei punti fondamentali che penso che le persone che ci seguono specialmente la macroeconomia la vogliono un po' sentire visto quello che succederà tra poco a Bitcoin sperando che sia diciamo da parte diciamo di forti aziende tipo anche Starbucks o anche altre aziende molto forti che stanno concludendo contratti molto forti quindi speriamo che nelle vicissitudini diciamo tra stati e aziende comunque imponenti sull'ambito comunque macroeconomico ci sia un aspetto di ripresa del Bitcoin cosa che io mi aspetto perché ho fiducia piena a Bitcoin e poi che trascini anche comunque un mercato che sta in questo momento soffrendo un pochettino va bene noi ci riaggiorniamo sicuramente nei prossimi giorni grazie Cristian Ciuffa grazie a te Anabella grazie un saluto a tutti quanti e buon trading a tutti buon trading anche a te Cristian grazie ci separiamo per una piccola pausa e poi ci ritroviamo ancora qui in diretta alle fonti tv a tra poco